Onestamente, da mediano proprio così puro, no. Ogni tanto nelle giovanili mi è capitato di giocare comunque magari in un centrocampo a quattro, un po' come incontrista, però ho fatto soprattutto il difensore centrale, quindi diciamo è un po' la mia prima volta in una prima squadra. Però sto cercando comunque di dare il massimo contributo e di fare delle cose semplici, quello che un po' richiede il mister. La cosa bella di questo gruppo è che tutti quanti siamo veramente dediti al nostro obiettivo e ci stiamo impegnando e ognuno cerca di fare il possibile sempre col massimo impegno e disponibilità. Questa qui è l'unica strada perseguibile per raggiungere la salvezza. Sarà sicuramente una strada in salita, è durissima. Le altre squadre sono molto attrezzate, ma anche noi nel nostro piccolo secondo me abbiamo giocatori e possiamo dire la nostra. Pian piano cerchiamo di tirarci fuori e secondo me qualcosina di buono si inizia a vedere, perché nelle ultime partite, nell'ultimo mese e mezzo, due, secondo me stiamo trovando un pochettino più una quadratura. Pian piano rientreranno molti giocatori che sono infortunati, tanti riusciranno ad avere una condizione comunque migliore, perché tanti arrivano da infortuni, e quindi io penso che anche noi potremo toglierci le nostre piccole soddisfazioni, mirando il più in alto possibile poi giustamente. Secondo me c'è stato un pochettino, un salto di maturità, una coscienza personale da parte di tutti e un senso di appartenenza e di responsabilità che è venuto a crescere col passare del tempo. È un gruppo bellissimo e infatti anche i nuovi, penso lo possano testimoniare, si sono inseriti subito. Giorno per giorno diventiamo sempre più amici e sempre più squadra. Inizialmente purtroppo noi siamo partiti non facendo un ritiro insieme, avendo una condizione altalenante, mille difficoltà. Adesso secondo me col passare dei giorni più sta passando il tempo e più stiamo diventando squadra. È un po' questo il cambiamento che è stato fatto, diciamo. Stiamo prendendo tutti quanti più coscienza del nostro ruolo e della nostra importanza, perché veramente ognuno di noi è fondamentale alla causa. È importantissimo perché comunque è arrivato in un momento di difficoltà per noi, ci sta dando convinzioni, ci sprona, è comunque una persona che ti fa sempre stare concentrato, ci fa stare sul pezzo, ci martella tanto, però poi ci lascia anche durante la settimana degli spazi comunque nostri per scaricare un pochettino la tensione. Più ci avviciniamo alla partita e più ci carica e durante la partita siamo sempre lì sul chi va là, siamo sempre pronti, siamo sempre svegli. E questa qui è una dote secondo me importante per l'allenatore, perché fa sì che i giocatori restino sempre concentrati. Infatti oggi il manto faccia giocatori in generale, ma soprattutto davanti, veramente importante. Abbiamo cercato di limitarli, poi purtroppo il gol non siamo riusciti a non prenderlo, però diciamo siamo abbastanza soddisfatti della partita che abbiamo fatto. No, 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 no.